Buon sabato 15 giugno a tutti voi, non estrazione nel mese questa sera, sono in ritardissimo, Genova-Milano-Napoli le tre ruote principali, quindi questa è la classifica integrale del 90, mentre invece per quanto riguarda la 22-28-22-82, se volete proseguirla questa sera, ultimo colpo, nuova condizione. Due ruote gemelle, eccola qua, la 52-Milano-Napoli, 52-68-52-86, primi due ambi, poi 52-68-86, terzina, la terzina Milano-Napoli, tutta è nazionale, la terzina con l'ambetto Milano-Napoli è nazionale, va bene? Come il resto che abbiamo sempre fatto, quindi due ambi secchi su tutte come recupero, eccetera. Qui avete tutto, poi ci risentiamo nel prossimo aggiornamento, senza stasera ci saranno dei risultati, poi ci risentiamo, buon proseguimento di giornata e ancora buon fine settimana a tutti.